Giro! 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 Quando c'è? Eh, metto dove fa la fotografia dove volete! Dove? Do? Do? C'è già scrive Do? Eh si, scrive da qua! Un nome, cognome Dato di nascita Dato di nascita E poi un documento Mi porta per la salute E allora lo sai Giro! 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 si scivo là no, non posso farlo, non posso devi stare Grazie a tutti. 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 Huh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.